Israele e la marijuana, Israele e la marijuana, Israele e la cannabis. Lo Stato di Israele apre alla marijuana, apre alla cannabis. Vuol dire che i giovani che vogliono fare uso del cannabis e della marijuana, potranno fare un viaggio in Israele a visitare Gerusalemme che è la città santa delle tre grandi religioni monoteistiche, ebraismo, cristianesimo ed islam. Si, Netanyahu apre alla cannabis e alla marijuana e pensare che in Italia Matteo Salvini vuole aprire le case chiuse ma non vuole aprire alla cannabis, alla marijuana e pensare che lo è l'etichetta del monofoglio di Stato. Ci avrebbe tutto da guadagnarci lo Stato italiano. Io non so perché Matteo Salvini vuole aprire alle case chiuse ma non vuole aprire alla cannabis o alla marijuana. Matteo Salvini, prendi esempio da Netanyahu, prendi esempio da Netanyahu, Matteo Salvini, prendi esempio dalla stella di Davide. Adesso ci sarà un gran turismo, un gran turismo europeo verso lo Stato di Israele, capito? Matteo Salvini, ci sono mille motivi per fare il turismo nello Stato di Israele, ce l'ho noto perché la capitale dello Stato di Israele, più che Tela vive, è Gerusalemme. A Gerusalemme Matteo Salvini nacque prima di Roma. Quando ancora Roma non era nata Gerusalemme era una grande città, famosa in tutto il mondo di allora. Nel mondo di allora andava a grosso modo dal Tigri e Eufrate, sino giù allo Yemen, sino all'Esiopia, a Gerusalemme nel mille avanti Cristo. Il grande re Salomone, il Tempio di re Salomone. Il Tempio di re Salomone, Conrad Lorenz scriverà l'anello di re Salomone. Capito? Matteo Salvini, Matteo Salvini. Netanyahu, capo dello Stato di Israele, apre alla marijuana, alla cannabis. Tu Matteo Salvini vuoi aprire alle case chiuse, ma non vuoi aprire alle droghe, neanche a quelle leggere. Lo Stato ci avrebbe tutto da guadagnarci, capito? Capito Matteo Salvini? Te lo dice Serafino Massoni. Serafino Massoni che è questo qua, Matteo Salvini. Serafino Massoni è questo qua. Matteo Salvini, io, io, la notizia, la notizia di Netanyahu, dello Stato di Israele che apre alla cannabis, alla marijuana, te la metto come lingua riassunto di questo video e rifletti, rifletti Matteo Salvini, capito? Ti tratta di fare della cannabis, della marijuana, ti tratta di fare monopoglio di Stato, come le sigarette. Con la fascetta, monopoglio di Stato, nuoce gravemente alla salute, da vendersi in tabaccheria, anziché venire venduta dai pusher, dai pusher, capito? Capito? Matteo Salvini, mi raccomando, dai retta Serafino Massoni, capito? Dai retta Serafino Massoni, Matteo Salvini, eh? E io sono questo qua. Ok, 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 cari amici. Ok, ok, bene, bene.